e buonasera buonasera bella gente buon inizio settimana e benvenuti in nuovo in questa nuovissima puntata di dozzio lordo con fallow 76 molto bene ragazzi prima inizia se vi ricordo sempre a tutti che non sono mai solo e c'è l'altra bella gente simpatica. Mentre tutto raga spero che ufficialmente finalmente sono nella casa nuova ho la connessione operativa ho finito quasi di fare tutti gli ultimi aggiusti mi manca solo di montare la pro monitor quindi per il momento mi sto arranjando dopo quello del computer infatti ho appena attivato il portatile per poter vedere la chat e il telefono allora vediamo un po cosa abbiamo di gratuito no 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 Ah. Ok. Ma guarda l'agenda che c'è in Fallout, eh. Qui c'è l'imbarazzo della scelta. Allora ragazzi, appena avrò finito anche le ultime cose, come avevo già annunciato, farò una live mostrandovi la casa e tutto quello che ho appena montato. A parte che ho fatto anche delle piccole belle modifiche anche a livello di arredamento. Allora, scusate un secondo sto... Ecco qui. Oppla. Oppla. Perfetto. Ho finito di sistemare. Bene, mi trovo nel bunker di Beggersfield. Perfetto. 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 Allora ragazzi, noi abbiamo la nostra Babalussi, il gruppo GameStop, Beta, Detro, Nolan, Rob, Daraton e Chiara, Ladycroft, Christine, la nostra Isabelle. Oh, è tornata in aria anche la nostra Dalia Venus. Da quanto tempo? La coppia estreme opposite, lo tirano, Indotto Puccio, Saracono, Morte, Yee Yee e Restona il nostro Axel. Ok. Intanto sto prendendo tutto quello che serve. Grazie a tutti. Guardatek. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Centro di comando. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. faremo un po' a tutti. Okay. a tutti. grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ragazzi. si devo riaviare. a tutti. a tutti.